Giù le mani della Farmacup, no a licenziamenti, no alla privatizzazione. Questi sono solo alcuni degli striscioni che i lavoratori dell'azienda municipalizzata Capitolina hanno esposto davanti alla sede dell'assessorato alle politiche sociali di Roma Capitale durante il sit-in di protesta organizzato dai sindacati CGL, CISL, UIL e USI. Noi siamo qua per manifestare contro il progetto di privatizzazione della nostra azienda. Noi siamo un'azienda farmaceutica, sociosanitaria con 43 farmacie, abbiamo un servizio sociale con circa 50 dipendenti e poi abbiamo anche un asilo nido aziendale. Chiaramente l'entrata del privato senaturerebbe la funzione di Farmacup come azienda assistenziale e quindi di interesse per gli anziani, di interesse per i quartieri che non hanno farmacie private e dove c'è poca relatività per le farmacie, per il potenziamento dei servizi con sconti dei farmaci per esempio per le maternità, oppure sconti per gli anziani, oppure sconti per chi non ha potere economico per potersi permettere i prezzi normali dei farmaci. La situazione della Farmacup è una situazione molto critica perché ha presentato dei bilanci per il 2012 e il 2013 in passivo, un forte passivo, 10 milioni per il 2011 e 5 milioni per il 2012 e poi nel 2013 lo stesso si prevede un passivo di circa 5 milioni. Le proposte sono quelle di rilancio dell'azienda Farmacup, il suo carattere pubblico, la creazione di nuovi servizi anche, il rafforzamento di quelli esistenti per dare servizi alla cittadinanza. Le dico solo questo, noi eseguiamo un servizio per anziani dell'assistenza con circa 2.500 utenti e credo che di questa città ne abbia bisogno e che bisognerebbe rafforzare un servizio come questo, finanziandolo anche con gli utili delle farmacie. Vogliamo un incontro con l'assessore alle politiche sociali Cutini, siamo in una situazione fortemente esasperata e tanto per non andare lontano, già solo ieri è arrivata la notizia che il Monte dei Paschi di Siena, che è la banca che fa credito alla Farmacup, ha deciso di bloccare il fido, il che praticamente porterebbe a un blocco totale di tutte le attività della Farmacup. Oggi ad Orologeria è uscito un articolo sul messaggero nel quale, cosa di cui non si era mai parlata, risulta che il consigliere del gruppo misto di noi abbia portato in consiglio una delibera per trasformare la Farmacup in S.p.A., che sostanzialmente significa arrivare alla privatizzazione, quindi fare una trasformazione da azienda sociosanitaria S.p.A. e poi portare il 40% di quote delle azioni ai privati. S.p.A.